Con Davide Merola, perché Davide intanto sei stato sfortunato protagonista in occasione del gol, perdendo quel pallone, che cosa è successo lì? No, noi abbiamo provato ad uscire come ci chiede il mister, penso che l'errore capita a tutti, sbagliano i campioni, penso che possano sbagliare tutti, purtroppo non siamo riusciti a reagire al colpo subito e questo ci dispiace. Al di là dell'episodio, hai detto bene, possono sbagliare tutti, Davide, Zeman ha detto vento e campo ok, però non siamo riusciti ad adattarci. Sì, il vento c'era per noi, c'era per loro, il campo c'era per noi, c'era per loro, come ha detto il mister, secondo me abbiamo fatto meglio col vento a sfavore che col vento a favore, dovevamo sfruttare di più il fatto di avere il vento a favore, non ci siamo riusciti, è un periodo dove anche le piccole cose, perdi una palla oppure fai un errore, prendiamo subito gol e dobbiamo riprenderci il prima possibile. Ecco, chiaramente adesso il terzo posto è tornato in pericolo perché bisogna aspettare la partita del Foggia con il Monopoli, il Picerno ha vinto e si è avvicinato, ti chiedo dal punto di vista mentale quanto può dar fastidio questo passo falso di oggi? No, mettiamo in conto che il terzo posto sarà in pericolo fino alla fine perché ci siamo dalla terza alla sesta, comunque siamo tutte lì più o meno, quindi dobbiamo mettere in conto questo, noi dobbiamo pensare partita per partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo, vogliamo cercare di prendere il terzo posto e dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine del campionato. Davide, ti sei presentato benissimo quest'anno a Pescara in quel 5-0 contro il Potenza, poi hai fatto delle buone partite, un po' incalando ti senti ultimamente? Questo lo dite voi, io mi giudico quando sono a casa, mi rivedo le partite e rivedo dove sbaglio per cercare di migliorare. Come ti senti nelle ultime, anche fisicamente? Io so che posso dare di più, sono un giocatore che può dare di più, ovviamente non è che vado in campo e se sbaglio sono contento, ci mancherebbe, però io ogni giorno vado al campo cercando di migliorare per arrivare di nuovo dove ero prima. Ti chiedo Davide, a fine partita i tifosi vi hanno chiamato lì nel settore a loro riservato e è andato Luca Mora a parlare, che cosa vi hanno detto? Sì, è andato Luca, il capitano che è andato lì sotto, hanno parlato più con lui che con tutti noi, ma noi gli chiediamo scusa perché a noi dispiace che loro vengono in trasferta e vedono una prestazione come quella di oggi, ma come ho detto prima il gruppo è sano, lo spogliatoio è sano, quindi noi andiamo al campo, cerchiamo di migliorare per ottenere l'obiettivo. Una domanda da studio, la giro io a Davide Merola e poi liberiamo l'attaccante del Pescara, Massimo. Fabio Ferraresi Tu che hai avuto il mister e quindi già lo conosci, io l'ho visto un po' deluso, vi ha detto qualcosa in particolare nello spogliatoio? Chiede Fabio Ferraresi, tu che conosci bene Zeman per averlo avuto l'anno scorso a Foggia, abbiamo visto Zeman molto deluso, vi ha detto qualcosa in particolare? No, no, per ora non ci ha detto nulla, ci parlerà domani al campo, però penso sia giusto essere delusivi perché comunque come si è vista la prestazione non c'è stata, comunque con la Juve Sabbia c'è stata, con la Gelbison ci sono stati degli episodi che ci hanno aiutato, che Facu si è inventato un gol bellissimo e oggi la prestazione non c'è stata, ma penso sia normale perché come sapete tutti i schemi e meccanismi del mister non è che si imparano nel giro di giorni. Ci vuole tempo e noi siamo consapevoli del tempo che ci vuole, sappiamo anche che non è che ci sia tanto tempo a disposizione e cerchiamo di metterci con la testa giusta. Analisi precisa, quella di Davide Merola che prima di salutare volevo chiedergli in occasione del potenziale pallagolle che ha avuto l'unica il Pescara sulla punizione di Palmiero, di chi è stata lì la deviazione poi con la gran parata di Fumagalli? Io ero dietro, mi hanno pure spinto da dietro, quindi sono andato giù, ma se non sbaglio l'ha spizzata di nuovo Brosco se non sbaglio.